Sono Francesca Borghi e sto frequentando il secondo anno di dottorato di ricerca qui all'Università degli Studi dell'Insuria. Il mio progetto si basa sull'utilizzo di sensori miniaturizzati per la valutazione delle concentrazioni atmosferiche di diversi inquinanti, in modo particolare di particolato atmosferico. Negli ultimi mesi stiamo utilizzando questi sensori per la valutazione dell'esposizione personale di diversi inquinanti, quindi sempre particolato e biossido di azoto, rispetto a dei soggetti suscettibili, quindi in questo caso donne gravide. Questo progetto si inserisce all'interno di un progetto molto più ampio che coinvolge diverse università italiane, che ha come scopo quello di valutare le relazioni presenti tra aumento di concentrazioni di inquinanti e la presenza di effetti biologici, in questo caso valutando quelli che sono questi soggetti suscettibili.